le tecniche come avrete sentito magari in qualche video sentite dire il Tung Tzu Yim Tion Koon, Nian Tion Koon Tan Ju, insomma tutti i movimenti che sentirete sicuramente all'interno dei video attraversano proprio questo spazio che ci siamo costruiti davanti a noi in maniera tridimensionale è il motivo per cui non vedete movimenti di blocco 2D ma sono tutte azioni 3D proprio perché cerchiamo di andare a a sostenere sempre quella tripartizione di cui abbiamo parlato prima tempo, spazio, energia che vengono messe nello spazio appunto come altezza, larghezza e profondità è esattamente lo stesso tipo di concetto di tripartizione quindi non ci sono movimenti bidimensionali ma sono tutti movimenti tridimensionali e il fatto di colpire l'altra persona non è un'azione tipica contro un altro perché mi va di farlo ma nel concetto buddista Chan c'è proprio quello di riportare l'aggressore a uno stato di armonia cioè riportiamo un'azione negativa alla sua fonte il concetto di prendere la forza dell'avversario e ritargliela è proprio qui questa è una prerogativa di questo sistema è una prerogativa è una prerogativa è una prerogativa